Il primo ombretto che uso è questo verde e lo vado ad applicare partendo dal centro della palpebra mobile verso l'esterno. Su l'angolo esterno uso questo marrone. Sull'angolo interno applico questo beige chiaro. Ovviamente tutti i colori sono shimmer. Applico questo beige chiaro, invece sull'arcata sopraccigliare questo color oro. Adesso sotto l'occhio, prima applico questa matita verde, proprio partendo dall'angolo esterno fino all'angolo interno. E dopo sopra applico questa matita marrone, non la faccio arrivare proprio fino all'angolo interno, più o meno mi fermo a metà palpebra. Grazie a tutti. Applico l'eyeliner. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo è il trucco finale. Ultima cosa, lo smalto. Lo smalto, questo è uno smalto della Sally Hansen che è identico, assolutamente identico al particulier della Chanel. Comunque so che in giro ci sono diversi smalti che se non sono assolutamente identici si avvicinano molto senza appunto dover pagare i quant'è credo che sia 20 euro, più o meno? Siamo lì? Spero che vi sia piaciuto. Un bacio, ciao!